amici di moto fan benvenuti dopo un grande weekend dove è scaturito una cosa fondamentale per noi appassionati innamorati delle due ruote sia in moto gp che in superbike e il pilota e il talento e il coraggio di chi guida il mezzo meccanico ad avere sempre la meglio sulle caratteristiche tecniche della motocicletta è accaduto e abbiamo avuto la conferma ad assen dove incredibilmente per il secondo anno consecutivo lorenzo è stato buttato in terra ha perso il margine di vantaggio e è ritornato finalmente in cattedra casey stoner incredibilmente stoner è volato via procurandosi una brutta botta nelle prove un high side che gli ha procurato uno zoppicamento vistoso ad una gamba una botta ad una spalla non c'è stato niente da fare ancora una volta per pedrosa un anno in cui pedrosa rischia davvero il posto in hrc sono sette gare che non si vede non ha avuto nessuno dei suoi soliti infortuni non si capisce davvero che cosa aspetti ancora hrc a tenersi in squadra un pilota che non è in grado di portare al limite la onda come fa stoner ma stoner ha detto che va via quindi la yamaha ha solo un grande lorenzo la onda in questo momento ha solo un grande stoner la ducati ha un grande valentino ma una grandissima crisi la peggiore di tutta la sua storia ed è inspiegabile che non vogliono correre ripari che non vogliono fare niente delle cose normali che si devono fare in questi casi quindi abbiamo capito che yamaha con spiss o un grande dovizioso nel team tec trova non è in grado di tenere il passo di lorenzo di stoner e la onda rc 213 va fortissimo solo se è guidata da stoner ora stoner e lorenzo sono a pari punti sono tre gare tiratissime che finiranno in quell'incredibile appuntamento del Mugello il 15 di luglio quindi assen saxe in ring e Mugello e sarà un una triplete da seguire con grande attenzione perché lorenzo che sembrava ormai avviato tranquillo verso il mondiale dovrà invece giocarsela senza rimanere coinvolto in incidenti in cui purtroppo è veramente incolpevole quindi senza fare altri passi falsi perché stoner che veniva da tutti indicato come il pilota in grandissima crisi per aver dato l'annuncio che insomma è il contrario aver sofferto così tanto per aver deciso di rinunciare al suo lavoro al suo mestiere alla sua passione quindi di lasciare le competizioni il prossimo anno in un ambiente che non stima e non ama più non lo stimola più ebbene è risorto uno stoner quindi che ritorna in carica per il mondiale sono a pari punti sarà veramente un mondiale da seguire mi sa fino in fondo grazie a questa serie di imprevisti che ci contrapporranno i due migliori piloti perché il terzo non ha una moto a disposizione